ciao amici bentornati in un nuovissimo video oggi facciamo un video di sette cene sane così potete cominciare uno stile di vita più sano vi avevo già fatto le sette colazioni sane vi lascerò magari qui in una scheda e passiamo oggi a vedere le cene se questo tipo di video ti piacciono ti prego iscriviti al canale così non ne perderai neanche uno e lascia un bel pollice in su che aiuta tanto a noi youtubers senza più perdere tempo passiamo a queste cene cena numero 1 petto di pollo e cornetti numero 2 50 grammi di tonno patata americana e insalata mista numero 3 insalata di zucca e fetta e lascerò qua sopra una scheda la ricetta che è strepitosa numero 4 mezza piadina integrale con formaggio spalmabile prosciutto e insalata numero 5 che va di tacchino con insalata mista e fetta numero 6 panino integrale con petto di pollo e pomodoro se volete potete aggiungere un pezzettino di avocado numero 7 salmone e patata americana spero ti siano piaciute e noi ci vediamo al prossimo video ciao